che avevo organizzato e riportarle mi si è mancato giù da grazie david ben ritrovato ciao 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 anche al al a o grazie a effettua effettua rare ciao fari allonia z ok ok bentornato giudone dai giudaus con diego sì sì voglio fare la giudaus con diego ciao giudy come stai bentornato bene bene tra l'altro la puntata di ieri non l'ho vista la puntata del dell'artista e mezzo con diego però ragazzi a me tecnicamente mi fa volare come ha impostato la un artista e mezzo peccato che so che ieri c'è stato qualche disconnessione della live non so dovuta che cosa però c'è anche la doppia camera e la qualità la led una figata cioè posso dire una figata e sono un po dispiaciuto del fatto che magari non c'è un feedback da parte del pubblico così importante come magari in altre live molto meno meritevoli del tipo che fa oddio ma cos'è no è la martiria dell'ana cioè quindi quelle sono quelle sono le robe che simone sa fare e che secondo me dovrebbe portare avanti perché sono molto fighe cioè non è possibile che con un minimo di professionalità in più paradossalmente la gente apprezza meno assurdo il fatto che non erano seduti vicini e mancava un po di intimità dici dici noi io non ho visto niente ho visto solo qualcosa in muto perché stavo facendo altre cose ero fuori grazie asia come stai tutto posto ben benvenuta audio basso audio basso di cosa devo alzare un po il mic ok audio basso loro ci sta bella per jody ciao amico fritz ragazzi ben ritrovati che bello che bello intanto live train va questo va il dire che live train va è un pochino incoerente col fatto che io vi frega niente di prendere questo come un lavoro comunque qua in casa jody tutto tutto regolare sto bene aspettate che pubblico la storia che sto bene